Grazie a tutti, buongiorno, grazie molte per questo invito, davvero grazie a tutta e all'organizzazione e in modo particolare anche e non solo all'ITS Umbria. È stato detto dall'inizio dell'assessore che questo è un incontro per promuovere l'ITS Umbria qualora ce ne fosse bisogno. Io da questi primi interventi, primo fra tutti quello relativo all'assessore, recupero due parole che potrebbero essere di fatto le due parole anche per guida, delle parole guida anche di questo mio brevissimo intervento. La prima parola è modelli, avete centrato tanto, attenzionato tanto su questo tema del modello e l'altro tema ovviamente delle competenze, quindi questo tema della rete di competenze. Io innanzitutto presento non solo me stessa ma anche il mio istituto, Indire è un istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e per il sistema dell'ITS ha come dire diversi ruoli che gli vengono da documenti, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nel lontano 2008. Quindi noi prima di tutto ci occupiamo dell'attività della banca dati, abbiamo la gestione della banca dati dove tutti gli ITS in Italia, i 110 ITS in Italia sono presenti. Dopodiché lavoriamo su questi dati per il monitoraggio, per il ranking e quindi per la ricerca. Quali sono i tre elementi, solo tre io ne vorrei evidenziare che in qualche modo hanno caratterizzato e a tutt'oggi caratterizzano come dire il fare bene degli ITS? Il primo l'occupazione, il livello di occupazione, abbiamo dei livelli che stimano oltre l'ottanta per cento, il secondo elemento che caratterizza il sistema degli istituti tecnici superiori è quella che chiamiamo la buona occupazione, cioè la coerenza, l'occupazione coerente con il percorso di studi svolto, quindi oltre il 92 per cento. Infine, che non è banale, il grado di soddisfazione di coloro che hanno frequentato i percorsi terziari professionalizzanti degli ITS, un grado di soddisfazione che è all'ottantuno per cento, con un particolare apprezzamento per la qualità dei docenti che è oltre il 90 per cento, oltre il 93 per cento. Questi tre elementi che caratterizzano gli ITS, di fatti ci portano semplicemente, è stato anche un po' detto prima, a richiamare un po' anche il ruolo di questi istituti che in partenariato con le imprese, con l'università e con le agenzie sul territorio e anche le scuole riescono dal lontano 2010 ad oggi a connettere quello che è il sistema produttivo, quindi il bisogno delle imprese con quello formativo. Anche un bisogno che in questi anni è stato sempre, come dire, è vero sì che chiedono, lo diceva anche l'assessore, ci sono anche delle richieste di competenze di diverso livello, da saldatori eccetera, ma sappiamo anche bene che diverse imprese chiedono, continuano sempre più a chiedere competenze, abilità e veramente elevate. Quindi, accanto a questo, gli ITS in questi anni hanno un po', come dire, seguito il flusso della, no, di tutta quella che era l'economia. Abbiamo parlato, avete parlato di modelli industriali, quindi comunque gli ITS si sono caratterizzati verso questo tema del dell'industria 4.0 e a oggi hanno ben presente, in particolar modo, e arrivo all'Umbria, ha ben presente anche questa regione, quelli che sono, come dire, i fabbisogni occupazionali, ma anche professionali, verso la ecosostenibilità e verso la digitalizzazione. Ora, non voglio raccontare quello che sappiamo bene delle difficoltà di questi due anni, però queste difficoltà di questi due anni, Covid compreso, hanno messo un po' in crisi e messo in maggior luce l'attenzione che il sistema terziario professionalizzante deve avere ai fini dello sviluppo delle competenze per il nostro capitale umano. Quindi, a parer nostro, gli ITS possono, in questo momento, contribuire proprio a, come dire, a individuare dei modelli per quegli due temi che sono proprio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè la transizione digitale. Non dimentichiamo che l'ITS Umbria è stato il primo ITS in Italia a lavorare sul tema del 4.0, puntando a laboratori, ma non solo, perché non serve avere un buon laboratorio se poi non si hanno delle competenze didattiche e organizzative per poter promuovere competenze nei ragazzi. Quindi, ritorno al discorso degli ITS, quindi gli ITS possono probabilmente essere un po' il volano per individuare questi nuovi modelli per sia la transizione digitale e quella ecologica. Avete parlato di come l'Umbria, quindi, può essere anche un modello per la chimica e per la chimica verde. E allora io mi sento di dire questo, come responsabile del sistema di monitoraggio degli ITS e anche della ricerca proprio sul tema degli ITS, io vi pongo soltanto questa slide che secondo me non ha bisogno neanche di commenti. Questo è l'esito, è l'indice di posizionamento per regione dei percorsi degli ITS che sono terminati dal 2013 al 2019 e quindi sono stati monitorati dal 2015 al 2021. Non penso di dover aggiungere altro. Al primo posto abbiamo l'Umbria. Abbiamo quindi un indice di posizionamento di questi anni, dal 2015 al 2021, quindi perché non l'Umbria? Ha le carte in tavola ancora una volta, posso dire, anche con una sorta di previsione. Noi come istituto di ricerca ci mettiamo anche, come dire, a supporto per poter osservare e creare le condizioni per quello che è possibile per favorire la creazione di un modello che non sia solo sul tema del 4.0, ma che sia anche un modello per la chimica verde. Le carte e i numeri ci sono. Anche come istituto di ricerca per poter fissare, come dire, gli elementi che qualificano il modello degli ITS, noi abbiamo fatto grande riferimento a questo ITS dell'Umbria. E quelli che sono i tre archepiti, i tre elementi che caratterizzano proprio il modello degli ITS, in modo particolare quello degli ITS, che qui vedete rappresentati e che sono la flessibilità organizzativa, didattica e progettuale, la governance a rete e l'innovazione intesa proprio come utilizzo delle tecnologie abilitanti 4.0, delle metodologie e delle soft skill, questi elementi possono e potrebbero di fatti, come dire, essere intercettati perché si possano individuare alcuni elementi che possano di fatti diventare quegli elementi di trasferibilità per quella che voi avete in questo momento chiamato una rete di competenze. Per poter parlare di modelli, per poter realizzare dei modelli, poi bisogna passare, come dire, come diciamo anche noi in istituto, dalla teoria, dalla pratica, oppure passare dalla pratica alla teoria. Quindi se proviamo a individuare degli elementi di trasferibilità di quelli che sono, di quello che è il modello degli ITS, proviamo a, potremmo provare proprio, penso alle imprese, penso all'università, penso alle scuole, tutti insieme si potrebbe lavorare in una forma più sinergica perché questo vostro auspicio di modello anche per la chimica potesse, possa diventare una realtà, come dire, anche a breve termine. Noi abbiamo provato a inucleare questi elementi, se volete sono anche abbastanza scontati, no? Questi elementi che possono caratterizzare proprio un modello di rete di competenze perché noi abbiamo attinto ovviamente dal modello degli ITS. e quindi sicuramente il tema della, come dire, della didattica. Per fare modello bisogna anche fare riferimento alla didattica e quindi al tema molto importante dei laboratori e delle metodologie. E qui è importante pensare proprio a un potenziamento della didattica laboratoriale. Quindi non solo, come si diceva prima, infrastrutture, ma anche competenze didattiche, competenze organizzative e, come dire, il ricorso anche delle metodologie innovative, no? Penso ai project work, penso ai casi di studio, penso a tanti elementi che anche i tutor e anche l'apporto importante delle esperienze di stage possano, come dire, essere un grande elemento di trasferibilità e di, come dire, di unitarietà. Un altro elemento qui credo che sia importante porre attenzione è proprio quello che voi avete citato prima al tema delle competenze e probabilmente anche le tecnologie abilitanti se utilizzate anche, per esempio, nelle scuole, nelle scuole superiori, anche a partire dagli ultimi due anni, al quarto, al quinto anno, se ci fosse già questa sinergia tra imprese, ITS e scuole, proprio per poter lavorare al curriculum, già della scuola secondaria in questa direzione, probabilmente i sistemi e le velocità per acquisire competenze che servono effettivamente agli studenti, come dire, si guadagnerebbe davvero più tempo e più capacità anche di, come dire, di far sì che tutta quella che è la strumentazione che è in uso negli ITS possa essere utilizzata proprio da tutto il territorio. L'altro elemento che pongo come proposta che possa essere proprio favorire questo tema della costruzione di un modello di rete di competenze anche per il modello della chimica verde è ovviamente il tema del rafforzamento sempre del ruolo con le imprese, del rapporto con le imprese. proprio facendo riferimento a come gli ITS sono in sinergia con le imprese, la collaborazione nei fabbisogni formativi, quella che è l'attività dei docenti che provengono dal mondo del lavoro e pensare anche a questa forma di docenza che è tanto utilizzata nei percorsi degli ITS, per esempio pensare a questi docenti, ovvero anche esperti esterni che possano essere nella scuola secondaria in qualche modo prestati temporaneamente alla docenza potrebbe forse garantire proprio la possibilità di creare proprio una delle reti proprio stabili, ci immaginiamo sempre, l'abbiamo sempre detto, delle hub davvero hub proprio laboratoriali a cui tutto il territorio può fare riferimento. ecco questa è un po' la come dire il lancio che vi proponiamo come disponibilità anche da parte del nostro istituto nel potervi seguire, osservare e garantire la possibilità di far emergere con evidenza questo modello Umbria che possa continuare a essere come fino ad ora è successo un modello per altri ITS. l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo per il tema delle tecnologie abilitanti 4.0, l'esperienza portata avanti dall'ITS sta diventando un'esperienza importante nel panorama nazionale, lo dico con onestà intellettuale, stiamo lavorando alla Biblioteca Nazionale dell'Innovazione che abbiamo già presentato al Ministro un mese fa e la proposta che il Ministro ci ha fatto è proprio di individuare delle cosiddette pratiche e semplificative degli esempi che possano traguardare poi gli altri soggetti delle di tutte le altre eh reti tecnologiche degli ITS e quindi abbiamo bisogno davvero di un come dire di un territorio eh che faccia un po' da pripista alla proprio a tutto il sistema nazionale. io vi faccio davvero i miei complimenti i miei migliori auguri per il proseguimento di questo di questo lavoro e di questo nuovo percorso che state intraprendendo con la possibilità ehm davvero di poter catturare quegli elementi che possano essere un esempio per non lo dico per ma davvero per il paese almeno per il tema della del terziario professionalizzante. Buon lavoro. Grazie